Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati, torniamo a parlare in italiano per un po'. Allora, benvenuti a questa quarta giornata della settimana dell'agri-food, della rappresentanza italiana della Commissione Europea, lo dico per chi ci sta seguendo sui nostri canali e su live su ADN Kronos. Siamo molto contenti di essere qui, che è una giornata molto importante, perché oggi è la giornata mondiale della biodiversità ed è anche il compleanno di questo campus, perché esattamente un anno fa abbiamo inaugurato questo grande progetto, mi viene a dire che è stato un anno molto intenso, che ci ha portato a cominciare a mettere insieme tanti tasselli di un grande mosaico, che oggi rappresenta l'anima di questo territorio e dei territori del... ecco, vedi il mosaico di Procida, dici mosaico e Eugenio ha la risposta. Esatto. L'anno scorso, quando ci siamo trovati qui, abbiamo parlato di biodiversità ma anche di mediterraneità e quindi oggi abbiamo voluto chiamare un po' di amici che di mediterraneità possono parlarci da tanti punti di vista. Abbiamo il sindaco di Pollica, al quale do il benvenuto, è ormai di casa in ogni panel, quindi sicuramente... Dispiace per tutti quelli che ci ascoltano. Però oggi vorrei che tu ci parlassi quando non li conduci... È ridondante la presenza, ma... Esatto, esatto. Però oggi sarebbe bello riuscire a fare un focus sul tema mediterraneità, Dieta Mediterranea, nel framework, diciamo che quest'anno ci porta a coordinare le comunità emblematiche della dieta mediterranea, perché quest'anno l'Italia e la comunità emblematica di Pollica ha la presidenza del network UNESCO, appunto, delle comunità emblematiche della dieta mediterranea. Poi abbiamo l'onorevole Gennaro Migliore, che qui ci porta a una rappresentanza importante dei parlamentari del Mediterraneo e quindi un Mediterraneo che ha un ruolo cruciale in questo momento storico più che mai. E poi Eugenio Gervasio, con il quale abbiamo cominciato questa settimana. Eugenio Gervasio, abbiamo parlato di cultura, arte, vino e anche ancora una volta di Mediterraneo. E poi un ospite molto importante, siamo molto onorati di averla qui con noi, Tiziana D'Angelo, che è la nuova direttrice dei parchi archeologici di Pestum e Velia, che per me è stato il punto di partenza quando il sindaco mi ha detto e ti devo spiegare un attimo che cos'è la dieta mediterranea e mi ha detto partiamo un attimo da Parmenide perché secondo me da lì si può partire. Quindi mi ha portato al parco archeologico e quello è stato l'inizio di un percorso. E poi di là dietro le quinte c'è un amico di questo territorio, che è Fabrizio Mangoni, il prof. E' uscito subito fuori. Vedi, io ti ho citato e coppe per magia sei apparso. E' il teatro. Esatto, esatto. Bene, io comincerei dal sindaco, ovviamente, non solo per gli onori di casa, ma perché secondo me è utile cominciare a fare un po', a dipingere quello che è il framework nel quale abbiamo lavorato in questi anni e appunto il tema dieta mediterranea, come è diventato per noi uno strumento per far rinascere o mi viene da dire andare a svegliare quelle risorse e dormienti che noi amiamo sollecitare, per innescare dei processi di sviluppo e di rigenerazione, che è un po' il tema di questa tre giorni di Pollica. Bene, insomma, la mattinata è molto piena. Io mi alzo, mi metto vicino a Sara perché il lavoro che stiamo facendo non è un lavoro dei singoli, non è un lavoro né del comune, né soltanto dei future food, ma è un lavoro ampio che riguarda un territorio ampio. Quando parliamo di dieta mediterranea non parliamo di singolarità, ma parliamo di insiemi, di condivisione, di collaborazione. Parliamo della possibilità di ridisegnare il futuro, però partendo dal passato. Quando Sara diceva la prima cosa, lei lo dice bene, io l'ho fatto molto male, nel senso ho detto guarda questa è un'archeologia, ero in dubbio su quale fosse il filosofo giusto da citare, non è vero, questo lo ricordo bene. Però il senso di quello che stiamo facendo a Pollica formalmente da un anno, ma da due anni più o meno, da quando abbiamo cominciato a collaborare è questo. Dieta mediterranea i più interessati al gusto dicono è un regime alimentare, si mangia bene, campi cent'anni e sta in perfetta forma. Quelli che ne conoscono un po' di più di dieta mediterranea dicono è uno stile di vita, ma non lo riescono a definire. Quelli ambiziosi e molto presuntuosi, come il sindaco di Pollica, dicono con la dieta mediterranea abbiamo un modello di sviluppo. Cosa significa? Significa essenzialmente ridisegnare il modo di progettare il futuro di un territorio. Volete sapere perché? Bene, Sara citava come rappresentazione di quello che stiamo per fare, il dipingere una tela. Stiamo facendo proprio quello. Perché? Immaginate, partiamo dalla cosa semplice, rimettere in cultura i terreni. Poi Fabrizio Mangoni, non so cosa dirai oggi, però tante cose. Lui è anche appassionato di urbanistica, fa altre cose, fa teatro, scrive libri, fa spettacoli, insomma fa di tutto. E poi ha scritto il piano urbanistico di Pollica, dando, come dire, concretezza alle follie reciproche del sindaco e di Fabrizio Mangoni. Però la cosa importante qual è? Cominciamo dalla rimessa in cultura dei territori. Cosa significa? Cominciamo a produrre, creiamo occupazione? No. Significa uno, salvaguardia di biodiversità, due, manutenzione dei territori, combattere il dissesto idrogeologico, significa produzioni di eccellenza e di qualità, significa ridare nuova linfa a territori che stanno morendo, combattere lo spopolamento, per poi andare oltre, recuperare risorse, rimettere al sistema cultura, rimettere al sistema turismo, creare innovazione, perché queste aree marginali non hanno più la possibilità di resistere secondo i vecchi schemi, per andare oltre. Perché noi abbiamo bisogno di modelli sostenibili, ecocompatibili, di modelli che siano, rispettino i principi dell'ecologia integrale, che abbiano una visione lunga da qui al 2050. Storia, Eleavelia, Pestum, futuro, innovazione, start-up e non. Questo è quello che stiamo facendo a Pollica. Gennaro, noi abbiamo molta presunzione a Pollica. Mi capita sempre più spesso di dire una cosa. Con la dieta mediterranea non ci facciamo l'export sul food, no. Non ci facciamo un modello sanitario preventivo che consente all'Italia di risparmiare una marea di soldi. Sapete quanto costa il Regione Campania l'ospedalizzazione di una persona per un giorno? 1.400 euro al giorno. Ci sono due elementi che condizionano l'ospedalizzazione. Uno, l'assenza di sanità territoriale. Quindi a Pollica abbiamo progettato l'ospedale di comunità. Due, la medicina preventiva. Penso un po' la dieta mediterranea. Se l'Italia scegliesse come Pollica sta facendo, ed è qui la presunzione infinita e sterminata del Sindaco, il modello di dieta mediterranea come programma di governo nazionale, abbiamo detto, uno, combattiamo il dissesto idrogeologico. Uno dei più grandi problemi del nostro Paese. Perché se noi rimettiamo in cultura i terreni, ridiamo equilibrio all'andamento delle acque. La Campania c'è stato un momento ha perso tutte le strade provinciali, nazionali, che attraversavano i territori. Perché? Perché come dice il mio amico Peppe Cilento, il Sindaco di San Mauro, le strade non portavano l'acqua nelle cunette, ma nel lato opposto e quindi c'erano le frane. Nei terreni agricoli è la stessa cosa. L'abbandono porta dissesto. E quindi che cosa facciamo a Pollica? Mettiamo in campo le idee, le testiamo e le modellizziamo affinché chi vuole può scegliere di aiutarci oppure di applicarle altrove. E per fare tutto questo abbiamo messo insieme le forze di tutti e continuiamo ad aggregare tutti coloro che vogliono entrare in squadra. Però mi pare di capire che la partita si comincia a fare non semplice, ma più contendibile. E penso che siamo nel momento giusto per dare un ulteriore slancio, aggregando altri partner importanti. Noi abbiamo puntato molto sulla direttrice degli scavi archeologici di Elea Vedia. No, sapete perché avessimo scommesso? La direttrice ha ragione. Ragazzi ci ho messo esattamente un mese e mezzo per riuscire a mandarle un whatsapp. Poi ho scoperto che la direttrice, giustamente, venendo dall'Inghilterra, e adesso mi siedo così, lascio la parola agli altri, venendo dall'Inghilterra avevo un problema. No, ma quale figuraccia? Avevo un problema, avevo comprato la scheda italiana ma non voleva lasciare il numero inglese. Adesso ci raccontiamo proprio i fatti di casa. Però a Pollica succede così. Ho mandato un messaggino annunciando questa cosa, risolto il problema. Risolto il problema. Però il problema, sapete qual era? Che aveva chiesto a qualcuno dei suoi dipendenti dell'area archeologica, mi montate la dual sim all'interno del telefono? E non ci riuscivano. Perché, no no, ma mi serve per dire un'altra cosa importante che facciamo a Pollica. No, abbiamo bisogno di formare le persone che lavorano a questo progetto e quindi abbiamo bisogno di giovani capaci ma anche di migliorare il capitano umano che ha vissuto da tempo questo territorio e che deve assumere le sfide della modernità. Noi vogliamo cittadini ottantenni come mio padre che dice Stefano mi devi insegnare ad usare Whatsapp, perché se no non posso chiamare mia nipote Francesca, che sarebbe mia figlia. Ho finito. Grazie Sindaco. Questo è il motivo per cui abbiamo aperto la Digital Academy, quindi grazie. Insomma, mica gli posso spiegare che era tutto connesso per arrivare alla Digital Academy. Grazie mille. Beh, prendo spunto da quello che hai detto, perché diciamo che quando il Sindaco dice Dieta Mediterranea dovrebbe diventare un programma di governo, non lo diciamo a caso. I nostri colleghi portoghesi, per esempio, sono un pochino più avanti di noi sotto questo aspetto e Dieta Mediterranea, dallo sviluppo urbanistico, alle policy sulle mense scolastiche, a tantissime altre iniziative che stanno portando avanti, insomma ci stanno facendo vedere che per loro Dieta Mediterranea è diventata una cosa seria e che la stanno portando in tante iniziative che stanno attraversando, mi viene da dire, l'esperienza di una comunità che ha capito di avere un valore tra le mani e lo sta cercando di concretizzare in ogni modo. Allora, ovviamente avendo qui Gennaro Migliore c'è l'opportunità di affrontare il tema del Mediterraneo e questo Mediterraneo che per noi ha un ruolo cruciale ed è una grandissima opportunità. Che ruolo gioca l'Italia all'interno di questo Mediterraneo e come noi possiamo prendere spunto nel traghettare quelle che sono magari buone pratiche, che impariamo dalle altre nazioni colleghe, amiche? Cosa si può fare insieme? Perché questo è un momento in cui la parola insieme è essenziale, è uscito da tutti i panel, in questi giorni da ogni panel è venuto fuori il messaggio insieme e quest'anno tu hai un'opportunità enorme perché presiedi un network che mi viene da dire ha un ruolo fondamentale oggi per l'equilibrio del mondo. Grazie Sara e grazie per questo invito. Io per dovere in questo momento devo fare le cose insieme con tutti i 31 parlamenti della nostra assemblea parlamentare del Mediterraneo che lo dico per credo quasi tutti la conoscano poco, è un'organizzazione che fa parte del sistema onusiano, siamo osservatori permanenti delle Nazioni Unite e coinvolgiamo appunto questi 32 paesi che fanno parte dell'area di tutto il Mediterraneo e del Golfo e dei Balcani perché per noi il concetto di Mediterraneo è un concetto che si lega particolarmente al Mediterraneo allargato. Facendo questa esperienza mi è subito stato chiaro quanto fosse importante l'elemento della connessione e anche delle identità che caratterizzano ciascuno di questi paesi. Io vorrei trattare perché ovviamente qui ci sono persone che hanno varie competenze e anche stili narrativi diversi. C'è un maestro come Fabrizio che io diciamo da quando lo conosco vado sempre in giro nelle sue conferenze a cercare di sapere qual è l'ultima invenzione narrativa che ci propone. Per cui io cercherò di essere molto specifico su quello di cui mi occupo anche perché secondo me bisogna innanzitutto comprendere l'estensione di questo concetto di dieta mediterranea perché noi parliamo di dieta mediterranea, lo dico autocriticamente, quasi come se stessimo parlando della dieta italiana, ma non è così. La dieta mediterranea è effettivamente la dieta di tutto il Mediterraneo e così come abbiamo l'orgoglio di avere in un territorio come l'Italia, in particolare in un territorio come questo, una delle più imponenti biodiversità. Credo che siamo al 70% della biodiversità europea che è concentrata in Italia, lo dicevi tu ieri anche in uno degli interventi che hai fatto. Dobbiamo innanzitutto precisare alcuni concetti dal mio punto di vista. Noi siamo sicuramente d'accordo con il terzo degli obiettivi dello sviluppo sostenibile che è quello del benessere e della salute. One Health per noi è ovviamente un obiettivo del millennio. Tra l'altro, apro parentesi, non ho capito perché ne hanno fatti 17, ma questo c'è diciamo una mia provenienza napoletana per cui potevano farne 16, 18, invece hanno scelto 17 come numero magico. Ma io sono convinto che One Health sia il contrario di One Diet a proposito di dieta mediterranea, perché la dieta mediterranea è fatta innanzitutto di culture identitarie e ogni volta che io vado in giro ciascuno cerca di resistere, almeno per le persone che io incontro, nel rendere eccezionale, nel rendere unica la propria esperienza di consumo di cibo, di produzione, di consumo, di cultura del cibo. E questo penso sia la maggiore ricchezza che ho acquisito nel corso di molti anni, non solamente adesso che ho questo impegno, nel anche far crescere una politica e anche un sentimento della reciprocità, dell'accoglienza, di quello che veniva detto nel panel precedente, cioè della kindness, dell'Ubuntu, detto alla africana, cioè della condivisione e della convivialità delle differenze, come diceva Don Tonino Bello che del Mediterraneo è certamente stato uno dei maggiori interpreti, seppure sul versante della spiritualità e della religiosità e della testimonianza di pace. Perché spesso leggere un tema come quello della dieta mediterranea, andando anche intorno a ciò che vuol dire dal punto di vista culturale, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista ambientale, ci restituisce quello che in realtà questo concetto, almeno per me, significa. Cioè la dieta mediterranea è ciò che ci collega alla natura. Perché noi sopravviviamo perché mangiamo. E quindi il cibo è una funzione essenziale per la nostra sopravvivenza, per la nostra vita. Ma questo cibo è il prodotto di molti fattori. È il prodotto di fattori produttivi, è il prodotto di azioni umane. Prima una delle cose che mi ha fatto venire in mente il panel precedente, quando diceva quanto influiscono i cambiamenti umani su ciò che hai mangiato e su ciò che mangerai. E secondo te che cosa dovrebbe accadere? Mi è venuta da fare una riflessione che soprattutto per quanto riguarda l'hotspot del Mediterraneo, che è quello più sensibile ai cambiamenti climatici, perché la maggior parte dei cambiamenti climatici e quelli più estremi avvengono, tranne che in alcune isolette del Pacifico in quest'area, nel senso della regione, mi è venuto in mente che ci sono certamente delle responsabilità dovute ai cambiamenti climatici indotti dalle azioni umane. Ma ci sono anche dei cambiamenti nella, per esempio, produzione di cibo che hanno a che vedere con l'inconsapevolezza o anche con l'incapacità o anche con la non conoscenza di processi produttivi che distruggono più rapidamente dei cambiamenti climatici intere aree che potrebbero essere utilizzate. Per questo io poi sono così contento di essere qui in un luogo dove si parla di agricoltura rigenerativa, per esempio, oppure di agricoltura di precisione, perché due paesi vicini, tutte e due mediterranei, Israele e Libano, che per mille motivi diciamo così hanno storie molto diverse, però sul piano per esempio della produzione alimentare l'uno ha rubato lo spazio al deserto e l'altro si è fatto mangiare le produzioni più significative, peraltro con un clima anche migliore, perché i monti del Libano sono straordinari dalla monocultura, dal fatto che non c'era una capacità di diversificazione, dall'idea che appunto vi potesse essere un'immissione massiccia di standardizzazione produttiva di basso livello senza avere quella qualità e quella intensità di riflessione sul futuro che altrimenti sarebbe. Oggi si parla molto di food security, poi fermami perché se no posso parlare veramente per molto tempo e noi faremo come Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, oltre ad essere degli amici e sponsor patrocinatori della Mediterranean Wine Art Festival, di cui poi vi parlerà Eugenio Gervasio a Napoli. A ottobre faremo in Romania un incontro sulla sicurezza dell'area e uno dei temi sarà chiaramente quello della sicurezza nella produzione di alimenti dopo la guerra in Ucraina e un altro sulla food security e sulla energy security in un forum economico del Mediterraneo che faremo a Tangeri nell'inizio di dicembre. Perché vi dico questo? Perché oggi la sicurezza alimentare secondo me va declinata, e concludo su questo aspetto, secondo dei principi che devono riguardare l'accesso, la produzione, la continuità, la possibilità di intervenire sulla trasformazione dei cibi e degli alimenti e sulla mantenimento delle culture identitarie che producono i singoli territori. Secondo me, se si parla di sicurezza alimentare, solo, anche se mi rendo conto, molto importante, dal punto di vista della costruzione, diciamo così, di occasioni per cui il grano che in questo momento è rubato dai russi, che lo stanno rubando. Ci sono 25 milioni di tonnellate di grano che sono sequestrate dai russi e c'è una nave che stanno cercando di spacciare prima in Libano, poi in altri paesi, con grano ucraino combattente bandiera russa e che per fortuna i paesi non stanno accettando. Se parliamo però solo di questo, non comprendiamo quanto sia altrettanto importante parlare di sicurezza alimentare intesa anche come produzione e autosufficienza. Ora vi dico solo questo e poi veramente finisco. In Egitto il 39% dell'apporto alimentare è dovuto al grano ucraino e russo. Ma questo perché, io parlavo con i miei interlocutori egiziani, in Egitto non c'è più una capacità di produzione di grano. La stessa cosa in Algeria che importa il 90%. Ora la nostra battaglia dovrà essere certamente perché l'Italia difenda e faccia delle leggi adeguate come hanno fatto in Portogallo, ma che agisca anche sul piano internazionale per promuovere quelle azioni positive che ritornano alla costruzione di un percorso di produzione agricola. Perché è lì che è nata la civiltà. È nata nell'età del bronzo, nella mezzaluna fertile intorno ai quattro fiumi, il Giordano, il Nilo, il Lilo, l'Eufrate e il Tigri, che rappresenta, diciamo, la culla della civiltà. Ed è il motivo per il quale noi ci chiamiamo realmente mediterranei. Ora, la questione assurda è che l'Algeria, per esempio, era il paese che produceva il grano per la Francia. Oggi lo importa dalla Francia e produce solo petrolio. Estrai solo petrolio. I contadini dell'Egitto non producono più, anche perché ci sono problemi con altri paesi, la grande diga dell'Etiopia. E invece, secondo me, noi dovremmo agire anche in termini di cooperazione internazionale, quindi non solamente per valorizzare quelli che sono gli elementi della biodiversità nostra, per promuovere questa coscienza ampia. Ed è per questo motivo che io penso che la sicurezza alimentare, che si collega a quella energetica, che si collega a quella idrica, rappresenti certamente una sfida fondamentale del futuro. E se questa viene letta alla luce delle implicazioni che la dieta mediterranea propone nella sua complessità, nel suo nocciolo duro di espressione, che qui, diciamo, trova anche degli interpreti, Sara certamente, ma io voglio fare un sacco di complimenti al mio amico sindaco, perché, devo dire, sono anni che pervicacemente porta avanti un concetto fondamentale, cioè che non è che Pollica deve andare nel mondo, è il mondo che deve venire a Pollica. Noi riusciremo sicuramente ad affrontare questo tema, anche a livello legislativo per quanto ci riguarda, in maniera più consapevole, perché capiremo che le relazioni che ci sono e le implicazioni che ci sono nel promuovere una disciplina come quella della dieta mediterranea non servono solamente, come in tanta vulgata esiste, per fare, diciamo così, gli hipster ambientalisti, ma per costruire, come diceva il sindaco, un nuovo modello di sviluppo. Ringrazio l'onorevole Gennaro Migliore. Gennaro, grazie, perché sicuramente ci ha aiutato a mettere in luce quei puntini che vanno connessi, collegarci al panel dopo, ma soprattutto legarci a Tiziana D'Angelo. Tu hai parlato di storia, hai parlato di origini, hai parlato di quanto il Mediterraneo in realtà è una culla dalla quale siamo partiti da un lato per sviluppare tutto il pensiero filosofico occidentale, che qui ne ha visto un po' l'origine, dall'altro che oggi ci dà un modello di età mediterranea che connette la dimensione culturale, ma anche pratiche agricole che nei secoli hanno saputo preservare il parisaggio, le risorse, non a caso un terzo della biodiversità qui all'interno del Parco Nazionale del Cilento è stata protetta, preservata, alimentata, fatta crescere, perché la biodiversità si crea, si crea lavorando in un determinato modo. Da un lato mi viene da dire cosa noi con le nostre comunità emblematiche potremmo fare per fare in modo che Dieta Mediterranea vada oltre le sette comunità emblematiche e possa essere diffusa ulteriormente e qui penso che Fabrizio abbia qualcosa da dirci. Ma ora vorrei chiedere a Tiziana D'Angelo, questi parchi archeologici sono per noi una risorsa incredibile. Il sindaco ha parlato di sviluppo, ha parlato di rigenerazione, c'è un potenziale enorme. Allora mi farebbe piacere, perché Tiziana diciamolo è appena arrivata e abbiamo davanti una strada spianata di iniziative da portare avanti, mi farebbe piacere capire come possiamo fare sinergia, perché la parte diciamo dei parchi archeologici diventi un asset strategico sempre di più. Allora, noi abbiamo parlato di sfide future e appunto uno probabilmente proprio intuitivamente diceva bene che sfida futura c'è nel passato. In realtà quando si parla di sostenibilità per noi è davvero una sfida a cui ci troviamo a far fronte ogni singolo giorno, perché per noi l'idea di biodiversità, l'idea di occuparci del nostro patrimonio botanico, l'idea di occuparci del paesaggio, sono assolutamente delle problematiche che ci poniamo ogni giorno e che quindi ci fanno appunto comprendere quanto in realtà la cura, perché davvero cura e dentro la cura intendo tutela e valorizzazione del passato ci possa in realtà aiutare a prenderci cura del nostro futuro. Io sono molto contenta di essere stata coinvolta appena arrivata e con moltissima pazienza anche dal sindaco di Pollica e da Sara Roversi. Sono molto contenta perché secondo me, come diceva Sara, c'è un incredibile potenziale qui. Partendo appunto dal fatto che il cibo davvero, che nel mondo antico era fondamentale, fondamentale non solo ovviamente come fonte di sostentamento, ma proprio come base sociale. Abbiamo parlato oggi, si sentiva dire insieme, insieme è una parola che torna, che continua insomma a ricorrere e in passato era assolutamente questa la funzione che il cibo aveva nella società greca, in quella romana, quando si pensa al symposium, era un momento in cui si beveva assieme, quindi il vino come elemento veramente di strutturazione anche della della società. Allo stesso modo nella società romana il convivium, quindi il condividere proprio questi momenti, per cui è molto di più appunto che ovviamente una fonte di sostentamento. Abbiamo parlato dell'importanza del Mediterraneo e davvero qui a due passi, a Velia ma anche a Pestum, noi non troviamo semplicemente appunto dei siti, dei siti UNESCO che sono stati delle importantissime colonie greche, sono state delle importanti città, un almeno Lucana e poi entrambe delle città romane, ma sono veramente delle città pienamente inserite in una realtà mediterranea molto ampia, in cui davvero noi dobbiamo immaginare il cibo che circolava quindi su queste navi che veniva, e quindi proprio all'insegna in un certo senso di quella sostenibilità di cui stiamo parlando adesso. Noi adesso ci poniamo anche nuovi problemi, quindi per esempio anche l'elemento della filosofia, Parmenide insomma è stato citato, Zenone, tutta la scuola eleatica che caratterizza la città, l'antica città greca di Elea, attuale Velia, quindi Ascea e che come diceva il sindaco è molto più appunto che si parla alcune volte di dieta mediterranea, un stile di vita, una filosofia di vita e noi possiamo davvero riconoscere in questi insegnamenti filosofici del passato alcuni elementi che veramente ci possono aiutare anche a comprendere meglio che cosa voglia dire dieta mediterranea in maniera tale che non diventi un termine che quasi di moda, uno di questi termini che sono un po' trendy e che usiamo senza in realtà comprenderlo appieno e questa cosa quindi di ricercare nel passato anche proprio degli elementi che ci aiutino a comprendere meglio di che cosa stiamo parlando, che cosa possiamo fare davvero con la dieta mediterranea, dove si può andare, quindi veramente nella materialità estrema dei nostri siti archeologici, quindi come dicevo nel patrimonio botanico da una parte ma anche nelle ceramiche in cui noi dobbiamo immaginare appunto il vino e il grano, insomma da questi elementi estremamente materiali noi possiamo davvero comprendere molto meglio che cosa sia questo patrimonio invece immateriale della dieta mediterranea e ovviamente noi da soli come parco archeologico questa cosa non la possiamo fare, per cui semplicemente non ne abbiamo le possibilità, però possiamo contribuire, quindi qui di nuovo l'elemento da soli, ognuno da soli non possiamo in realtà prenderci sulle spalle questo onere incredibile appunto di questa sostenibilità del pianeta, però assieme quindi combinando diverse competenze, combinando diversi patrimoni lo si può fare, per questo dicevo io sono, come diceva anche Sara, ci sono moltissime possibilità davanti a noi e insomma è importante metterci nella posizione di poter collaborare, questo è il primo passo e poi insomma costruire ovviamente diversi tipi di collaborazione, noi anche come parco archeologico abbiamo molto a cuore il tema dello sviluppo, perché non siamo chiusi all'interno delle nostre aree archeologiche ad occuparci semplicemente del passato, a occuparci solo di archeologia, ci rendiamo conto che la nostra responsabilità è decisamente più ampia, è decisamente maggiore, ci rendiamo conto che nell'archeologia, nel patrimonio culturale si può scoprire un incredibile motore di sviluppo e quindi qui torniamo all'elemento dello sviluppo, uno sviluppo territoriale che può essere appunto locale, nazionale ma anche internazionale, qui veramente la presunzione ritorna e non ci poniamo limiti. Quindi abbiamo questa consapevolezza del nostro ruolo e insomma è sempre stato fatto soprattutto negli ultimi anni la collaborazione tra il parco archeologico e delle per esempio appunto imprese no gastronomiche, quindi questo tipo di collaborazione per noi è davvero, insomma gioca un ruolo fondamentale ed è nella nostra quotidianità, però si può crescere, però si possono creare nuove opportunità, si può lavorare assieme quindi oltre alla collaborazione, allora si può collaborare assieme ma con questo sguardo appunto verso la sostenibilità, con questo sguardo verso il futuro e allora si possono creare ovviamente delle realtà anche nuove. Quindi ribadisco noi siamo una realtà importante e ci ne rendiamo conto ma da soli non ce la facciamo, semplicemente non siamo in grado ed è un bene e quindi insomma stiamo cercando di, nel mio caso, di cominciare a lavorare ma in realtà il parco archeologico di Pestumevelia si è mosso in questa direzione già da anni e insomma io non vedo l'ora di vedere nuove, più che i risultati che poi arriveranno ma nuove attività, nuove sfide insomma emergere. Grazie. Grazie direttrice, non mancheremo, non mancheranno le attività nei prossimi mesi e ora dal parco archeologico vorrei passare la parola a Eugenio Gervasio perché diciamo con Eugenio abbiamo cominciato questa settimana parlando di agri-food in un contesto in cui la cultura era la padrona di casa e c'è un grande festival che ci aspetta a settembre dove cercheremo di unire questi puntini ma il motivo per cui ti ho chiamato è perché mi ha colpito moltissimo l'idea del mosaico. Questo panel rappresenta un mosaico, oggi è la giornata mondiale della biodiversità e il tuo progetto è la metafora perfetta perché hai colto l'opportunità di Procida, capitale della cultura, per mettere in luce quelle che sono i valori della dieta mediterranea. Mi farebbe piacere che raccontassi il progetto. Assolutamente sì, grazie Sara. Noi abbiamo avviato un'iniziativa culturale, l'abbiamo fatto sul mondo del vino con la collaborazione della Federico II col Dipartimento di Agraria a Napoli. Siamo stati ospitati per questo nella Reggio di Portici in un contesto estremamente bello e con un'esposizione multimediale e interattiva raccontiamo, divulghiamo la cultura, la parte scientifica, la parte didattica rispetto al mondo del vino e abbiamo chiamato questa esperienza fisica Museo Arte Vino e Vite Wine Art Museum e in maniera collaterale ci stiamo spingendo su tutta la serie di progetti che poi diventano eventi di diffusione sul territorio appunto di disseminazione anche scientifica ma sostanzialmente anche culturale che si chiamano Wine Art Fest e quindi sul Wine Art Fest abbiamo fatto tutta una serie di iniziative in questi anni. Il Museo del Vino è nato da poco, da tre anni, diciamo sì coinvolti pesantemente purtroppo da questa negatività della pandemia però ci siamo sempre posti in un tema di grandi eventi di qualità, di qualità che fa largo uso di tecnologie e di innovazione quindi abbiamo fatto molte iniziative virtuali proprio per essere sempre al centro della scena rispetto a questa divulgazione scientifica che sugli elementi culturali è estremamente importante e da qui sono nate tutta una serie di collaborazioni. Ultima devo riconoscere all'onorevole Gennaro migliore che il Presidente dell'Assemblea dei Parlamentari del Mediterraneo, l'intuizione di aver capito subito che il nostro progetto era un bel progetto che poteva appunto fare disseminazione culturale sul territorio in maniera anche più ampia rispetto alla dimensione mediterranea e quindi abbiamo ricevuto l'alto patrocinio dell'Assemblea. E poi ci siamo incrociati con te che parlavi prima di inclusività, di partecipazione, di coinvolgimento e io penso che tu sia un motore vulcanico assoluto in questi termini e quindi abbiamo iniziato a costruire delle iniziative e ci siamo incalanati in questo percorso che volevo semplicemente avviare una iniziativa festivaliera, conviviale, richiamando i termini che sono stati citati anche dal direttore nuovo di Pesto Mervelli, la dottoressa D'Angelo. Stare assieme a tutti in un tema di simposio, mettendo assieme la cultura del Mediterraneo e partendo dalle iniziative più importanti che sono state avviate nel nostro territorio. In particolare con gli amici di un'associazione che manca a farla apposta si chiama Identità Mediterranea con Gaetano Cataldo abbiamo condiviso questo percorso di mettere assieme il vinaggio, l'uva della Campania per offrire alla città di Procida, capitale della cultura, una bottiglia di vino e abbiamo anche poi fatto un concorso con dei giovani artisti, in realtà delle giovani artiste che hanno, una trentina di giovani artisti che hanno partecipato a questo concorso che abbiamo fatto lì alla reggia di Portici, al Mav a fine dicembre, che ha prodotto questa etichetta che si chiama Incanto Divino e è pronto diventata l'etichetta di questa bottiglia. Questo è un progetto che abbiamo chiamato Mosaico per Procida ma anche con l'ambizione di farlo diventare Mosaico del Mediterraneo e quindi con questo progetto intendiamo andare avanti e portare sul territorio rispetto alle grandi iniziative della cultura perché noi presidiamo, abbiamo voglia di presidare i luoghi della cultura dove si fa cultura dell'enovastronomia e quindi abbiamo ovviamente messo al centro il mondo del vino, lo facciamo perché chi fa cultura ha ben in mente che cosa significa sostenibilità. Sostenibilità poi va declinata con inclusione, partecipazione, coinvolgimento e responsabilità sociale. Analogamente abbiamo avviato tutta una serie di progetti estremamente interessanti, per esempio con l'ONAB che sono gli assaggiatori del vino. L'ONAB ha avviato a livello nazionale un percorso che porteremo a Napoli di formazione per i non vedenti come sommelier. Abbiamo avviato un percorso come Mav Museo Artevino alla Reggio di Portici per gli istituti scolastici, per i ragazzi che diciamo così si possono anche perdere rispetto ai temi dell'alcolismo e abbiamo chiamato percorsi per il bere consapevole con un decalogo che ci fa capire qual è la negatività dell'alcolismo, qual è la negatività dell'alcol rispetto a un tema di convivialità e di cultura che va messo a centro rispetto al tema del vino. Quindi sono tutti temi sui quali continuiamo a lavorare come impresa culturale e devo dirvi e devo ringraziarvi perché grazie a voi siamo entrati in un percorso, in un contesto di condivisione e di lungimiranza rispetto a una prospettiva che ci vedrà tutti quanti assieme a settembre in questo festival che organizzeremo a Napoli, nel cuore di Napoli, nel Decumano, al centro storico, fatto molto piacere che anche il sindaco Pisani ci abbia fatto visita, che abbiamo presentato tutti assieme l'iniziativa del Mediterraneo Wine Art Fest che si terrà il 15, 16 e 17 settembre a Napoli, ovviamente siete tutti invitati e ci farebbe piacere poi continuare questo percorso assieme perché abbiamo credo solennizzato una collaborazione che è veramente inclusiva. Grazie. E come, sindaco? Se posso, Eugenio, grazie in assoluto per averci invitato a Napoli e per essere venuti qui a Pollica. Noi quest'anno abbiamo lanciato, questa settimana, ormai il tempo è tutto relativo. Era solo giovedì. Era solo martedì, forse? Mercoledì. Mercoledì, vabbè, insomma. Siamo messi male. Il 18 maggio abbiamo presentato a Roma, al Ministero dell'Agricoltura, un'iniziativa festivaliera, ma non è una classica iniziativa. Non si fa a Pollica, non si fa nel Cilento, si fa in Italia. Ed è molto ambiziosa, si chiama Festival Nazionale della Dieta Mediterranea, che non è altro che un contenitore, in cui è necessario, è importante far confluire dei contenuti, per avere un grande insieme nel quale connettere tutti coloro che parlano, anche in modo non molto consapevole di dieta mediterranea. Lo fanno invece in modo molto consapevole con il Wine Art Festival. E quindi io direi ad Eugenio di fare in modo che, linkandosi alla piattaforma che abbiamo lanciato sul sito festivaldietamediterranea.org, il tuo festival dovrebbe essere il primo ad accedere a quella piattaforma e quindi recare il loghetto del Festival Nazionale della Dieta Mediterranea, che non è altro che un insieme di iniziative che si svolgono da quando abbiamo cominciato? Dal 26 di maggio. Dal 26 di maggio con il salone della dieta mediterranea che comincia a Pesto fino al 16 novembre, il compleanno della dieta mediterranea. Noi abbiamo voluto chiamarlo così, che è un po' il compleanno del Mediterraneo per noi di tutti, noi che abitiamo il Mediterraneo, perché è il giorno nel quale è stata riconosciuta la dieta mediterranea come patrimonio UNESCO. Quindi, Eugenio, noi siamo felicissimi di poter collaborare con te e mettere insieme le nostre iniziative. Non abbiamo in questo caso la pretesa di voler essere noi i leader di qualcosa, ma vi offriamo una piattaforma sulla quale ragioniamo e continuiamo a costruire un percorso congiunto e condiviso. Grazie, assolutamente sì. Grazie mille sindaco per averlo detto. E adesso l'arguo compito al prof. Dovete sapere che prima il sindaco vi ha parlato di un sistema complesso, di un sistema che in questi anni ha visto il prof molto presente su questo territorio, al nostro fianco, al fianco del sindaco. In questo territorio è stato fatto un progetto che ha preso vita la scorsa estate, è stata presentata la scorsa estate. Io lascio la parola a te per unire i puntini e chiudere questo incontro. Va bene, siccome siamo abbastanza pochi, saltabbeccherò un po' da argomenti per dare un po' anche un carattere conviviale alla nostra conversazione. Devo dire in premessa che ci sono due cose che sono state dette che rappresentano un po' lo scenario di quello che io dirò. Da una parte Gennaro ha messo in evidenza, a Gennaro Migliore un po' la crisi del modello globalizzato e la necessità di un ritorno alle produzioni, al locale. E questo secondo me è uno dei punti. L'altro è quello che diceva la direttrice di Pestum che, e io sono un po' critico su questo, nel senso che in dodici anni dalla dichiarazione del bene UNESCO, dieta mediterranea, sono stati affrontati molti aspetti, lo stile di vita, l'antropologia, l'aspetto medico, ma si è un po' trascurato secondo me le ricadute sull'economia locale che questa parola, che questo pensiero, questa protezione avrebbero potuto avere. Io penso che è il momento di cominciare a riflettere profondamente su questo aspetto. Nella dichiarazione originaria si parla paesaggio, cultura, ricetta, salute. Paesaggio, cultura, produzione, è un elemento secondo me che oggi richiede un approfondimento. Il mio contributo si colloca dentro a questo spirito un po' critico, nel senso che è stato tutto molto utile, gli accademici hanno fatto i convegni, però il contadino di qua non c'è ancora, secondo me. E questo è un po' il punto. Il contadino che ancora c'è, oppure il contadino che deve rinascere qua. Allora, questa immagine racchiude un po' chi sono io in questo momento, nel senso che sono tre esperienze che poi in questo mio scegliere il Cilento come terra di elezione si trovano una fusione. Il primo di sopra è il piano regolatore di Pollica, che abbiamo chiamato FoodScape, paesaggio del cibo, perché è un piano costruito sul paesaggio che racconta un buon cibo. È un paesaggio che racconta un buon cibo, è un fattore del benessere, ma anche dello sviluppo enogastronomico, del turismo enogastronomico, di altre fonti di turismo rispetto alla monocultura del turismo balneare, che qui domina. Il secondo è un'esperienza straordinaria. Io faccio musei narranti dal 2000, cioè installazioni multimediali di museo. Ho avuto un'esperienza formativa per me, che è il museo del suolo di Pertosa. Qui c'è un museo del suolo. Ce n'era uno qui e uno a Washington, due. Poi ci sono delle sezioni di suolo nei musei di storia naturale, in Europa stanno facendo una rete. Io che sono un urbanista, che avrei dovuto conoscere il suolo, ragazzi non sapevo nulla degli importanti scienziati di agraria, gente che lavora con la NASA, gente che si occupa di radici, mi hanno spiegato come funziona. Il nostro futuro di sopravvivenza sul pianeta dipende molto di più da come trattiamo il metro e mezzo o i due metri che abbiamo sotto i piedi rispetto all'aria e all'acqua. è il nostro futuro. Allora, vi faccio ora vedere qualche immagine, giusto rapidamente. È un museo, ci sono 40 lezioni di 5 minuti che spiegano cose importantissime. Io non sapevo che nei due metri sotto terra c'è più vita biologica, cioè tutti gli insetti, tutti gli animaletti, tutti gli acari sono in peso di più di quanto tutti gli uomini, tutti gli animali e tutti gli uccelli stanno sopra. Allora capisci che quando butti un diserbante, quando fai una ratura profonda, quando dipendi dalla chimica, tu stai impoverendo questo suolo, stai privando questo suolo della sua vita. Qui abbiamo fatto dei pedon con l'Università di Agraria, dove spieghiamo le varie formazioni dei principali luoghi della Campania e scopriamo molte cose che proprio la ratura e il fenomeno di questo tipo. Istentivamente uno pensa che la radice sia una cannuccia che prende acqua. La radice genera intorno a sé un mondo di batteri, di funghi, che rendono il nutrimento degli animali. E quindi spieghiamo un po' tutte queste cose. Questo video racconta una cosa importante. Alcuni anni fa, alla cooperativa Nuovo Cilento, abbiamo fatto raccogliere a tutti i soci le mele. Hanno portato 136 tipi di mele. Allora, quando parliamo della biodiversità, stiamo parlando di un territorio del Cilento che ha l'80% della biodiversità del Paese e che è un bene culturale come il Davide o come le statue di Michelangelo. Cioè dobbiamo entrare in questa logica. Quando però uno dice che è giusto fare gli IGP, le protezioni, però se tutti poi si mettono a coltivare la melanurca, noi rischiamo di perdere la ricchezza e la biodiversità. Questo è uno dei punti che volevo dirvi. Allora, questo è il primo argomento che volevo sollevare. Quindi che cosa si deve fare? Si deve un po' lavorare sulla valorizzazione e sulla difesa della biodiversità e sul recupero di un'attività agricola di produzioni locali. Il secondo punto riguarda il piano di Pollica che è un po' esemplare. Il piano si è concentrato fortemente sul paesaggio. Questa è una delle tavole dove noi registriamo tutti i muretti a secco che oggi vengono distrutti non tanto dai cinghiali, anche dai cinghiali, ma dai trattori. Gli urbanisti dicono che dobbiamo difendere il suolo dalle edificazioni, giusto, ma noi dobbiamo difendere anche il suolo agricolo dalle trasformazioni sbagliate del suolo agricolo. Si fanno delle strade, potrei fare ampie documentazioni per accedere, fatte un po' casualmente, e si perde suolo, si perde terreno perché di lava, si rompono i muretti perché il trattore deve lavorare più facilmente e si rompe. Non abbiamo mezzi meccanici per la collina, quindi bisogna reinventare una tecnologia al servizio dell'80% del nostro territorio, perché se no i mezzi che vanno bene per la pianura, qui sono distruttivi. Allora, il piano del parco, questo è l'altro punto chiave, rende edificabili tutta questa zona verde che vedete intorno ai paesi. È chiaro che se tutto questo viene costruito nel tempo, si perde non solo l'identità morfologica, ma si perde l'orto, l'orto periurbano che ha una caratteristica storica su cui si è fondata la dieta mediterranea. A San Mauro Occidente abbiamo fatto un lavoro insieme a Caterina Marmo di registrare gli orti che c'erano dal Settecento e vogliamo mettere un QCode con un'intervista al proprietario dell'orto. Che fa questa operazione? Dice che quell'orto è un monumento e il proprietario è un custode. Se il proprietario viene intervistato, forse è incentivato a conservarlo, piuttosto che a fare una casa. Noi abbiamo eliminato tutte queste zone verdi e le abbiamo rese inedificabili, sono circa duecento ettari e qui ritornano le forme del paesaggio. La cosa importante che noi cerchiamo di fare, a Pollica si sono persi cinquecento ettari circa dagli anni quaranta agli ottanta di agricoltura. Questi sono terreni in Selvatichiti, secondo le norme devono restare Selvatichiti. Noi abbiamo fatto una zonizzazione che classifica il territorio in funzione del ritorno all'agricoltura. Facciamo in modo che chi recupera il casolare, a differenza delle norme del piano del parco, non deve essere solo un imprenditore agricolo, può essere chiunque. Basta che firma una convenzione che fa coltivare il terreno. E questo è lo spirito, diciamo, di un piano urbanistico che si pone il problema del paesaggio. Qui abbiamo rappresentato in 3D il piano, perché qua si capisce il rapporto tra agricoltura e morfologia del territorio. Guardate che se per esempio voi andate da... e su questo paesaggio incide profondamente la forma geologica. Se voi andate da Pollica a Serramezzana, siccome c'è la base geologica è un flish tipico di questa zona, cioè sono delle rocce inclinate così, da una parte prende l'acqua e la portano dall'altra parte, tu hai un versante che è macchia e un versante che è bosco. E gli abitati dove sono nati? Nel bosco, perché c'è la legna e c'è l'agricoltura, perché c'è l'acqua. Quindi la natura morfologica del territorio dipende e qui le varie zone agricole sono rappresentate in rapporto all'andamento dei versanti. Andiamo avanti, penso che posso... dunque un ultimo punto che vorrei rappresentarvi. Noi dobbiamo costruire reti di produttori locali che... bisogna lavorare sulla modernizzazione del paesaggio, però nel rispetto della forma del paesaggio, che non è una visione estetica, guardate, è una ragione profonda del rapporto tra uomo e natura. Questa immagine che rappresenta una cultura millenaria, mi consente di farvi un piccolo raccontino con cui chiudo. L'uomo che ha fatto quel muretto ha fatto un piacere a sé e un piacere alla pianta, perché gli ha lasciato la terra. L'uomo che pianta una leguminosa per fertilizzare il terreno di quell'ulivo ha fatto un piacere a sé, ha fatto un piacere alla pianta, ha fatto un piacere alle api, ha fatto un piacere a sé che producono il miele. L'uomo che alternava, come nella tradizione paesaggistica, ogni 4, 5, 6 ulivi, una pianta di fico, due piante di fico, che attiravano gli insetti, non facendogli andare verso gli ulivi. Ha fatto un piacere al fico, un piacere... Questa storia può essere raccontata anche da un altro punto di vista. La potrebbe raccontare l'ape, la leguminosa, il fico. E questo ci riporta a Parmenide e a Velia, perché quando Parmenide dice gli uomini sbagliano quando danno un nome alle cose, nel poema della natura, dice una cosa importante, cioè io e l'albero siamo la stessa cosa. Cioè dobbiamo uscire dalla cultura antropocentrica e cominciare a pensare che stiamo dentro a un sistema, che può essere modernizzato, non è che dobbiamo tornare al contadino medievale, però non dobbiamo perdere questa storia e questo insegnamento. Grazie.